Siamo con Andrea Bonfanti, mi diceva il tuo capitano nuovo acquisto anche se c'eri già l'anno scorso Il capitano ogni tanto dice bugie ma fa niente Ci ha detto di dire che sei stato rubato nel mercato estivo a Mossos de Squadra Sì mi hanno pagato di più Fusion e allora ho detto in questi tempi di crisi è meglio andare con la squadra che paga di più Un grande direttore sportivo che fa il mercato Un grande direttore sportivo, anche se io ho in tiro è un grande direttore sportivo Senti è una partita particolare perché è a 5 però è a 2-1, equilibratissima A dire il vero ci sono stati tantissimi tiri però comunque fino all'ultimo sofferta E loro sono molto bravi, noi abbiamo svegliato tanto, ho compito il sottosita che ha svegliato un gol a porta vuota Un po' di pali Un po' di pali, un ginocchio e mezzo rotto, un intervento a centrocampo però alla fine abbiamo vinto Si riesce a tornare in Serie A, si riesce a fare un... Secondo me si può tornare in Serie A quindi speriamo La famosa rinuncia del capitano Il capitano non se l'è sentita perché non ci dà fiducia, lo ripagheremo con i risultati L'obiettivo è quello di tornare in Serie A quindi L'obiettivo è quello di tornare in Serie A Ci faccio complimenti, alla prossima Grazie Ciao